quindi dove andiamo ma è sicuramente un attore e poi di sito manifesto... ma vedi ancora farlo, mi chiede a me che devo ancora farlo ma adesso se l'hai fatta, mi ha detto di sito manifesto, adesso se ne accorde, e se la cazzo adesso già gli chiedo, l'hai fatta? Sì! Io sì! ma dov'è che stai andando lì? guarda me c'è giallo ma perché non vedo puntato io? ma già l'aveva puntato lì proprio che sotto la sfida forse ma... è quasi un rivelatore per il giudizio un manifesto al piede, il nostro profitto è arrivato a lei, quello che ti devo, è una parte, l'altra parte ma dov'è il... dov'è il coso che è la scatola? ecco a... cosa, cosa, cosa hai dì? è il rilevatore è uno dei due, no? è qua su stoppo c'è la lama e lo sapevi stoppo c'è la lama 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 a me mi lagga ma tantissimo eh no, troppo così ma sabato via però potresti anche aiutarmi grazie sono senza punizioni sono senza niente cosa ti aiuto non mi faccio ammazzare con niente sono in due dai ecco fa il culo se avesse un'arma se avesse un'arma un'arma guarda una pistoletta quanti sono ahhh c'è il cecchino dico quel cosigno dio caro aiuto ecco io vabbè c'è bisogno senza armi se lo sai lo sprecate tutto io ho scontato una pistola ah devo trovare il liberatore ragazzi vieni qua a salvarmi che c'è anche la cosa dammi un'arma albileci per me ma sopra lì ti devo salvare il mio sacco ti devo salvare il mio sacco farmi non mi faccio ma cosa qua ho visto la cosa te la sognata per prenderlo è vero zio zitta zitta che sta arrivando uno zitta 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 eh oh eh ho ucciso pure per quanto un altro ancora Dio non ti rianimi mai ma che cazzo no c'è un altro Dio caro ma dai ma che te lo fai è più di gente ahia porca puttana però ahia ma hai capito ma continuare i valmi finito ah c'è un altro ancora porca puttana dammi dammi i medici mi avete rotto mi avete rotto mi avete rotto ma basta avete finito di rompere i coglioni mi avete rotto no chi è un altro ancora eh ma ti sono oh quanti sono tretona madooo vadoo ma non è arrivando gente ma non è fuoco via ma non è fuoco ma chi è che cazzo no ho fatto un altro col cambio uuu eh quello non è un modo però no chi è venicurami non stai lì a farli vieni curarmi dai vieni su c'è sopra dai oh mi vedi c'è sopra qua sta divando sta divando non di là di qua sono che cacchio curmi 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 purmi tanto mettiamo ho finito non c'è più un cazzo sui infiniti cazzo ho fatto fuoco a tutto poi mi si è rotto il cazzo perché vuoi vedere se arriva un colpo quello no no ce l'ho no va a farlo fuoco a tutto adesso mi si è proprio rotto il cazzo no che cazzo fai no 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 ok no l'elivatore mi serve a me altro che se vieni l'elivatore di Andrew dimmi quale cosa eh devo fare la sfida lì è l'elivatore serve l'elivatore era quasi l'elivatore di solito no l'abbiamo già preso quello no eh di solito l'elivatore è un'arma non è che in un posto così fisica no no non è un'arma è una costizia ecco poi c'è un rilevatore poi desertiva ah ma poi c'è l'elivatore sembra quello lì che si trova eh no è come una cassa blu ma no l'elivatore è quello che sta no quello è quello è il manifesto alieno quello mi sa che hai fatto il manifesto ah ok eh ma l'elivatore dovrei che lo trovo io penso il manifesto non ho preso l'alieno ehm l'elivatore dovevo mandare ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ah ma non era quello l'elivatore l'elivatore è invece di lì ma ci sono scudi gioco ragazzi ci sono scudi e' altro dov'è? ma poi seguo mi sento i miei mi sento ok qua questo qua ah ah non sapete fare le sfide di elevatore non è che eh eh ma perchè non lo dà? me l'ha dato è baggata ma cosa che l'ho fatto non c'è pesa tua ah no ah no ah no non lo dà ma non me lo dà ma devi andarci vicino sottometti hai fatto non me lo dà non sottometti eh non lo dà ma vaffanbrodo ma lei già fatta allora no non me l'ho dato come non ti è andato ma ci devi andare vicino ai primi quadrati eh hai fatto si ma se non mi sembia qua dato cosa ti do vicino ecco lìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì le armi 50 anni fa perché stavo cercando di fare la missione forse non puoi dire senza armi e pino di armi qua beh in effetti non è che c'erano tanti armi che potrebbero uccidere si ma il pompa che cavolo me ne faccio del pompa che non va eh va bene il pompa no il giochino no quello no senza armi damis il pompa io non son capace metrieta metrieta verde qua oh mi sto colpendo mi sto colpendo spadagli con il martello a questo punto se non prendi il pompa eh dov'è? c'è botola ti salgo a botola dai mette l'arte mi sa si che cavolo è? eccolo qua vado ho fatto la gara ho fatto santo uno qua uno qua uno qua ma no vado provo a cammino mi fa avanti per favore la base di porti con il globo mi sa mi sei che è venuta ma non lo faccio apposta io sparo ma prendi più un po' ecco così gli spari col martello scusi ho spazato con me la mitraglietta min da vicino col pubblico andare riuscire in azione al mondo lo stavate curando le andro a un giorno armi caratterizzare le grande per me lo tirato ma la giardina in acqua ci sono uno due tre quattro armi di lucio l'obiettivo di non c'è bene ok io le altre gente sono qua ok guarda questo mi piace cimera qua quante ce ne sono una ma adesso l'ho preso perché ammazzato il tipo adesso la pistola pistola faccio delle pistole ma c'è un pompa pistole da pompa no cosa spari scusa stai zitto tu che fa che sei uguale a me la cosa bianca no la c'è un lieto bianca no e per l'altro no e sto altro no eh c'è qualcuno eh, no chi ha salito ma non è botte, eh bambini no no no, vedi? no no, vedi? eh buba blu, eh cosa fai blu qua eh? qua c'è già salto, dia, lo prendi qua c'è il mio altro blu qua oh se vi scende no non mi interessa salto adesso mi devo mettere un po' di ridi l'uomo si è preso tutt'olio io ti schizzi ma guarda ma tu sta merda dai ti stai salto qua dai ti stai salto qua non lo prendi quello lì ma c'è le mie quattro blu l'hava puntata da tre ore che me lo dico minuto 4 blu eh la mia quattro blu lì dà ti lascio quello verde dai vai ma allora ma che c'è anche quello non ti va bene minuto ma con un certo vuoi munizioni vuoi munizioni tolgi come c'hai vai dopo mi dici dopo mi dici non ho munizioni non le voglia munizioni adesso pide di munizioni ne vuoi munizioni e prima di munizione il logico reprendi tutta tu hai fatto il cappello no no la mia mamma no no non parlo di ritorno noi cosi no ho fatto se troppo da vuole se lo avete verso 2 pregare il proprio pubblico per favore min n arrivano la macchina più di uno però ecco il cazzo ecco il cazzo indietro nel ponte stanno arrivando e ve lo dico è troppo ma perchè non mi fa? ma tu è bianco quello non capisco perchè non mi fa stanno qua eh poi le munizioni 10 munizioni qua ma l'avete fatto 2 su 2 eh? 2 su 2 cosa? ma cosa? ma sagrada quello non ci credo un mini scudili eh? oh c'ho mini scudili coglia se vuoi che riesce da? ehm non fa non morire voglio sapere io no forte quello eh? forte ah lo ci si eh beh dai uno scudo che è che se li ha presi? non sono lì dove ti ripuntati no non ci sono più ma non dici che c'è il pompo qua? non mi dici? ma c'è un sacco di roba ma c'è un sacco di roba ma c'è un sacco di roba ma lì è pilodiale guarda ma blu questa 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 no adesso le armi ce le ho c'è uno scudo qua anche eh no 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 arrivo munizioni tutto c'è tutto scena ok ma qua siamo sparati io senti tutto qui eh? provate voi forse ma c'è tutto lì eh? c'è tutto il blu c'è tutto il blu che vuole andare qui c'è la jump raga però nooo eh non ti vuol dire non ti vuol dire non ti vuol dire ma tu fa cavolo è non ti vuol dire non ti vuol dire che serve d'altro quanto lo mostro di un po' non ti vuol dire quanto lo mostro di un po' non ti vuol dire scusami ah ma io ho guardato ma non le trovo piacca per misole le lele cosa cosa capito io però i scudi ah erano lì oh non ci sono più bravo sono scema io una prima cosa passa a riprendere a vero d'anni il mio lavoro il giugno è di un'epoca non so il titolo a me il mio foto non è che non è un'altra cosa quando ci ha provato se non si è scogliato ma io non c'ho farò mai dire che è un quadro e venire perchè tanto sennò quali turbini? no c'è la squalo però eeeh squalo per questo mangia eh no guarda assoluto quando lo diamo mi interessa ma dove sta la gente? non vede nessuno eccoli qua! li stanno combattendo di bruttati eh no uno per la navicella proviamo ucciderli? c'è proprio i 7 e 3 km da casa mia proviamo a colpire lui però se studi ahhh 70 di danno ti ho fatto quel coglione ma stupisciamo? ma certo 70 di danno si fa dov'è? dov'è? dov'è dov'è? dov'è dov'è? no non fa! non mi fa! che cazzo è andato? eeeh dov'è essere per tu dov'è essere qua invece è possibile è andato lontanissimo eccolo! oh! pezzo di me che cosa c'è la ecco la contro il viola vedi? lo scaravano tutto eh? o c'è lo scarbiole eh? ma ta ma da nooo